Allora, sono Napoletana, sempre dopo il partito Ciao, una cosa simpatica, perché l'altro giorno Aliebda ti ha dato la sua prima frase in italiano, sfruttando anche la tua amicizia con il focio ci dici qual è stata la prima frase che ti ha detto in italiano o in napoletano e ce la dici ai tuoi tifosi che adesso ti stanno guardando No, non è che ho parlato con la bici di preguntarle io solo, prima di arrivare a Napoli, volevo parlare in italiano ho praticato, pensando, però frente a tutto è difficile però, che se io, ho detto, per esempio sono contento di arrivare a Napoli di stare in una squadra con tanti giocatori importanti cose così, ho praticato, però è difficile dirlo perché non so parlare bene l'italiano, però con il tempo ma quello che mi importa adesso è fare bene per Napoli e poi...